Musica Signori siamo pronti ufficialmente per terminare il gioco Per pescare quel cavo di drago che ci ha fatto impazzire E per appunto prendere l'ultimo pesce del gioco e cucinarlo Un drago non so se lo riesce a cucinare Ma questo già prendiamo Nei commenti ci avete detto che potenziamento prendere Probabilmente il gioco è stato pacciato rispetto ai video che abbiamo visto Perché infatti non utilizzavano quel potenziamento Ma credo che così dovremmo farcela Quindi proviamo, impazziamo Io dubito che sarà semplice Che accidenti era che ci mancava Il flick Il flick, guarda, questo è il flick Esatto, e qui è quello che facevano anche gli altri Ma era meno sberla secondo me Esatto No, 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 allucina Pensavate che fosse una partenza bella Eh, l'ho sembrato però secondo me Si, erano tutti emozionati Allora Mamma mia, speriamo bene Io sono proprio Come ti senti oggi? Carichissimo L'altra volta vi ho detto 5% di probabilità Questa volta? Siamo più o meno al 35 Ok 30 Che poi gli altri riescono sempre ad avvicinarlo Da quello che ho visto nei video Noi ho appiccicato all'amo Allora Campione 25 No, no, io vado, eh Non c'è problema Qua, ci restiamo tutto il giorno E prima o poi qualcosa nella Aspetta, lo stai facendo apposta Dai Bene Vuoi fare il burlone per far durare il video? Non sto facendo il burlone neanche per sbaglio Ma non c'è più È quello Tu non sai Quando ti compare a mozzicà E quindi nella tua vita dici Che devo fa? Io ti giuro Io odio Chi ha pensato alla meccanica di questo drago Anche io Allontanati il più possibile Fede, è D F Ci Vai, vai Fai così tutto il tempo No È impossibile, Steph Mi sta venendo l'ansia a vederti Perché Prima tu Davi bottine Qua Allora Prima andavi secondo me più veloce Poi davi colpetti Poi invece devi stare costante Devi dare costantemente colpetti Perché non ce la fai Devi stare proprio così Signori Sarà una lunga giornata Signor Drago La prego collabori La prego Davvero No Campione Ah, pesciolino Guarda Devi farti una vita Maledetto Infame E' andato Eh, è sempre lì che gira Surprise Perché a noi compare all'improvviso Cioè gli altri lo vedono Si avvicinano A noi compare all'improvviso Io lo faccio fuori Sempre Dai, veloce Ok È un matto poi L'hai visto come Come noi è matto Perché devo fare Sinistra Destra Sinistra Destra Esatto Devi oscillare di più Steph Bravo Quante cose deve pensare Il mio cervello Per fare sta cosa Il drago Il fondale Quante ce ne sono No, in mente Devo muovere anche la barca E pure il mouse Perché questo Lo fa in base Da dove tengo il mouse Eh, l'ho visto L'ho visto Perché ti spostavi Comunque Cioè Il gioco è difficile 2 Questa roba è difficile 10 Non me ne frega nulla I migliori di queste cose In i video Se lo stessi facendo a Ferre Ragazzi urlerebbe Tutto il tempo No, Steph Sarebbe la fine Del family friendly Tu vorrei dire di cosa Sono io nei giochi Anzi, lui lo sa Voi non lo sapete Ed è meglio Che non lo sapete mai Finché non avete A giocare ad Airston E non sapete nulla No, ragazzi Voi pensate A uno scaricatore di porto Peggio O a Clash Royale Clash Royale E Airston Sono i miei Punti deboli Come cavolo si fa Non lo so Vi dovete fare una vita Allora, sai che cos'è? Ti devi ricordare quasi a memoria Dov'è l'incanalatura In cui ti devi infilare Vuoi? Eh vabbè Però Il prosciutto cotto lo vuoi? L'ho fatto io il gioco Ho programmato io il gioco Beh perché dobbiamo per forza finirlo? No, rispondimi Stanno tutti insultando adesso Io non c'è bisogno ragazzi Bello Ci siamo divertiti Ma abbiamo mai finito un gioco Nel nostro canale Ma non dobbiamo Noi non finiamo mai Però abbiamo finito Fortnite Sottile Signore È morto Signor Drago La prego No ma morto a me va bene Non ti acchiappo Comunque raga E la cosa che ci avete scritto Di poter nuotare col gatto Anche quello Era un'altra versione del gioco Esatto Non so perché Viene costantemente pacciata E cambia Io ti truciò la famiglia E cambiano E per quello che vi siete estinti draghi Non sono messi Lo so Beh Lo so In Game of Thrones si sono estinti C'è un motivo Questo Non si sono estinti Sì Uno rimane No c'erano le uova Ma erano estinti Sì C'erano le tre uova Ma erano estinti Che cavolo Quindi si sono estinti draghi E poi qualunque film dei draghi Si estinguono sempre Se ci fatto caso C'è sempre l'ultimo drago Che muore Poveri draghi Vabbè però è realistico Perché effettivamente Noi facciamo estinguere Qualsiasi cosa nel mondo Quindi effettivamente Era un messaggio Quello Buongiorno Non possiamo Non c'era un hack Tipo Ah l'ho preso Gli ho detto Possiamo metterlo in editing Non si accorge nessuno Siamo bravi a feca Non è vero Facciamo scrivere Non è vero Sto a fagnota Come ho provato a feca qualcosa Siamo cringe Quindi Dai ma come fai Come cavolo fai Il problema è che sei più lento Ti ripeto Gli altri erano veloci E poi oscillavano un minimo Anche ho premuto qualcosa Per tagliare tutto il menu Che tasto sta rata Ecco shift Ok Almeno lo sappiamo Allora Perché ti spiego Ok Io dovrei tenere premuto il mouse Per fare fisso il drill Ok Però dovrei anche muovere il mouse Ma dovrei muovere anche ID Per fare sinso ad essere con la barca Ma anche premere control Allora tu adesso mi spieghi come si fa Non si possono ribindare Non si possono Signori Stacco la fotocamera Che altrimenti tanto muore Lo so già E ci vediamo Quando le cose iniziano Ad accendersi E ci sono le urla Abbiamo la tecnica Ragazzi Non ce la faccio più Allora sei riuscito quindi Ad andare Sopra e sotto Con questi scattini Esatto Ma come l'hai scoperto Eh provando Ma Il drago è incastrato lì Io ho sbaglio Sì perché Allora prima di riniziare La registrazione Sono riuscito a fare il primo È la prima curva Della caverna Quindi mi ho detto Cavolo riprendiamo Che forse è la volta buona Allora Invece A me sembrava incastrato là Qua no Ah Vedi Raga è un glitch Vieni qua Vieni qua amico Sì sì Ti vogliamo proprio qui Ok Porta Steph Ti prego Ti prego Ti prego Piano 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 Non farlo scappare Steph torna indietro È stata lontani troppo Devi farglielo prendere Sììììììììì Comunque si è glitchato Cioè è rimasto incastrato nella caverna Non mi interessasse un glitch Forse si è incastrato proprio perché l'hai portato lì Quindi non riusciva a uscire Ma non ce ne frega nulla ragazzi L'abbiamo preso adesso Devi metterlo nella barca senza farlo cadere Ragazzi non avete idea di quanto Ci abbiamo provato Non avete idea Oh mio dio Come ti senti Stef a riguardo Facciamo l'intervista Mi sento potente Mamma mia Manca il mio compleanno Mi emoziono così tanto Non lo lanciare Vola via come un drago Vola in alto nel cielo Vai subito a vendere Poi pensiamo al resto Corri a vendere Mi è venuto mal di pancia Dallo stress per questo drago Tra l'altro vedi che ci sono dei pesciolini Sì Praticamente mi stavo rompendo le scatole tutto il tempo Perché allora mentre Mentre Stef Mentre Stef continuava a fare tentativi Io stavo cercando soluzioni Però ovviamente non esistono soluzioni Perché tutti i video che trovi sono vecchi E non funzionano più Sì È geloso Sì è geloso È geloso Proprio geloso Fatti una vita Che fatica Comunque veni a aver scoperto anche il su e giù È stata la svolta No no senza quella roba raga Non faceva Cioè in questa versione del gioco Non faceva più Infatti avete visto quanto ti permette di andare veloce È impressionante Sì 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 Vendi Non c'è Eccolo qui Comunque secondo me Alcuni non ci sono perché non li abbiamo venduti Perché questo non c'è che l'abbiamo pescato Perché si glitch Perché Non lo so Ma ne abbiamo pescato Non lo so No questo non abbiamo pescato Non mi ricordo Ha sempre salvato tutto Tranne il catalogo Il gioco Non lo so bene per quale motivo Ma guarda Che bugiardo Anche questo ce l'avevamo Questo con la lanterna No Poi fare alla fissa Mi dici per completare Sì lo sanno tutti Che io sto impazzendo per completare Anche il museo di Animal Crossing Quindi Steph lascia perdere Lo sanno già tutti Io per una cosa del genere Ho spaccato tutto È stato nella Switch Avrei spaccato la Switch in due Signori è il giorno più bello della mia vita Io non penso di voler raggiungere altro A tutto ciò Non mi interessa quanto dura Ma secondo me non dura abbastanza Anche se dura 10.00 Tanto a 8.01 monetizziamo Ok deve rimanere preservata La cattura del drago Da ora in poi sarò Non puoi prendere qualcos'altro Steph 23.17 Il drago Il cattura draghi No il drago No sono un drago io stesso Perché cattura i draghi Sì sì Sono un drago nel catturare i draghi Wow Quindi preparatevi perché saranno un nickname Mi son tolto un pello Io pensavo non ce l'avremmo mai fatta Non ce l'avremmo mai fatta Niente signori Ci sono altri giochi interessanti Potrebbero Probabilmente ne proviamo un altro Proponeteci lì perché no Ce n'è uno che mi ispira Che potrebbe essere carino Che ricorda un po' E io so che sono baciato dal sole Sì non so perché è arrivato Non lo so è così è arrivato Ci sta rovinando le luci sta roba Steffa ovviamente È il sole che è sorto per la cattura del drago È che passa attraverso le finestre chiuse Di stare sorto a Mordor Quindi a Mordor Signore degli anelli Quindi Non mi ricordo più C'è un giochino simile a questo Che voglio provare E vedremo se vi piacerà Sempre di pesca è molto diverso Però potrebbe essere molto simpatico Speriamo che vi sia piaciuto Finisce qui la mini serie Che poi non tanto mini Di cat ghost fishing È stata un'esperienza mistica È stato bello E però Mai più Niente Basta draghi Salto altri Ciao Ciao